Siamo al 91esimo, risultato per ora, per ora, nettamente meritato, nettamente, nettamente meritato da parte dell'Inter perché alla fine è vero che grossissime occasioni, soprattutto nel primo tempo, non ce ne erano state, se non due con Lautaro, ma comunque l'Inter anche soprattutto nel secondo tempo si è meritata ampiamente questo vantaggio perché l'Atletico Madrid in avanti si è affacciato veramente pochissimo, un paio di volte con Samuellino e poi a caso, attenzione perché l'Inter le avanti tante volte 2-0 che comunque ci starebbe ampiamente visto che lui si è visto per tutta la partita Cioè Arnautovic si è mangiato un paio di gol abbastanza importanti e poi proprio lui che entra perché si fa male Turam va a segnare l'1-0 a San Siro Contro una squadra rognosissima perché l'Atletico Madrid, ragazzi, di Simeone le dà sempre una squadra di merda rognosissima, soprattutto in difesa che stanno in 57 in difesa Qui tra l'altro fanno rivedere anche il gol, c'era Danfris che la voleva, l'era lui da solo, che anche se Arnautovic segna c'è Danfris che gli chiede a Lautaro Ma perché non me l'hai data? Pezzo di merda! E invece però deve ringraziare perché copia dei quadrati che c'è a Danfris, meglio che sia arrivato Arnautovic a sto pallone Comunque ragazzi vi ripeto, partita nettamente, nettamente strameritata dall'Inter Anche perché appunto per tutta la partita si è visto il canovaggio che ci si aspettava Un Inter che creava gioco o che comunque provava a creare gioco e ad attaccare la difesa dell'Atletico Madrid L'Atletico Madrid che appunto stava dietro, tutti chiusi, come sempre, puntavano sulle ripartenze in contropiede Visto che alla fine anche in campionato l'Atletico Madrid, ragazzi, ma in realtà non in campionato, da sempre Quando c'è Simeone sulla panchina l'Atletico Madrid gioca così praticamente da sempre Il Bayern Monaco per esempio ne sa qualcosa che l'è uscito contro l'Atletico Madrid Che se non sbaglio giocò 120 minuti insieme ai supplementari Perse ai 120esimo contro un Atletico che fece un tiro un gol, se non mi ricordo male Comunque ragazzi vi ripeto, partita perfetta da parte dell'Inter Soprattutto della difesa dell'Inter perfetta Si sono un pochino diciamo adagiate sugli allori dopo il gol dell'1-0 E c'era l'Atletico che cercava diciamo di colpire perché appunto c'era stato questo abbassamento dell'attenzione generale Infatti poteva essere molto 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 rischiosa questa cosa Però comunque in generale diciamo che Lautaro stasera non è stato incredibilmente incisivo Anzi nel primo tempo è stato lui in realtà avere quelle due occasioni prima della fine E poi in realtà è lui che va a correre per andare a tirare e poi il pallone che verrà parato da Oblak E che arriverà ad Arnautovic Quindi diciamo che non è stato incisivo a livello di risultato ma è stato alla fine uno dei migliori in campo Ora viene ammonita anche Barella Vabbè ora qui si cerca anche Fallitatici perché comunque Anzi fra te no chi è? Carlos Augusto Anche lui tra l'altro ragazzi Carlos Augusto Ma Carlos Augusto ma ricordiamoci che è una riserva Cioè Carlos Augusto ragazzi è un trattore Carlos Augusto un trattore Vero che anche l'anno scorso in Monza faceva ste robe Ma Carlos Augusto ragazzi è un trattore E stasera se non sbaglio ha fermato anche un paio di volte Griezmann Ma come se fosse capito la partita dell'oratorio C'è degli elementi in quest'Inter che diversi non si aspettavano Diciamo che rendessero in questa maniera E ragazzi Ave Marotta Ave Marotta In società è praticamente aver mezzo vinto qualunque cosa Perché ragazzi Le è un elemento che praticamente ti Oddio Madonna c'è l'Atletico sta attaccando all'ultimo secondo Attenzione perché l'Atletico l'è famoso per queste cose È di fare gol negli ultimi secondi Perché insomma appunto sono delle merde Stanno a difendere tutto il tempo Poi alla fine vanno a attaccare gli ultimi secondi No forse questo non è il caso Finita Finita Inter 1 Atletico Madrid 0 Meritatissima Meritatissima Risultato anche troppo 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 poco Perché poteva finire anche di più Per quello che si è visto in campo E come potete Canovac c'era questo Inter che Ha attaccato Ha creato mole di gioco Perché comunque Le è una squadra ragazzi Che in Serie A Fa che cazzo vuole E Atletico di Madrid Alla fine Come sempre È stato sempre dietro A cercare di creare qualche cosa Nelle ripartenze Ma Niente di che Anche perché la difesa dell'Inter Ragazzi Stasera Un bijou come sempre Mamma mia Bella partita comunque Veramente bella partita